I concentrati Cosmeseutical sono studiati per la correzione mirata dei segni dell'aging e contengono ingredienti bioattivi in percentuali elevate. RetiLift, il concentrato del nuovo protocollo biorimodellante, è formulato con retinolo, forma alcol della vitamina A, potente, attivo anti-age, efficace a livello di epidermide, giunzione dermoepidermica e derma. Il retinolo è potente quanto instabile, per questo in RetiLift è inserito retinolo puro microincapsulato all'interno di microcapsule che iniziano a rilasciarlo solo al momento dell'applicazione sulla pelle. Questa microincapsulazione è una tecnologia all'avanguardia ideale per il retinolo, offre un duplice vantaggio, lo protegge dalla degradazione e ne modula il rilascio nel tempo, potenziandone la performance funzionale. In RetiLift, il retinolo è inserito alla massima concentrazione autorizzata per prodotti viso ed è combinato con ectoina.